musica La casa sola mette in fine il gruppo Bravo Rebi Dai Rebi Dai Rebi Dai Rebi non mollare Lì c'è papo Vengono Grande Vai 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 Ale 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 Due passi veloci Dai 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 E sparta di Sonesera Vecca Garibaldi A portacolore del team Cingolani transita con un gap di 14 secondi Dai Rebi Ale 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 Tornare lo slalom In totale sicurezza Vai Rebi Dai Dai Ale 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 Tira e mola via Tira e mola via Dai 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 Vincente Scusa C'è Scusa Guardi Dai Da Vai vai dai dai Tra si dà ora Lucia D'Aramati Un minuto bravissima sale sicurezza a me rebecca sale per portare poi il congiorgio e poi si 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 migliore dei modi per il ciclocross boom sarà casasola becca rally garibaldi third place hanno fatto un lavoro spettacolare tracciatore comuniano 10 più wow però aspettiamo la notte carlo eh aspettiamo la notte questo è veramente uno dei percorsi più rally che ci siano nel circuito cos'è allora questo circuito? ho detto che è una figata perchè effettivamente è uno dei più divertenti che abbiamo sempre tecnico si aggiungono sempre belle parti più infidiose ogni anno c'è qualcosa di nuovo e è sempre bello avere giallo qui si 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 si